Grazie Maria Penadino, ma resta qui con noi perché approfittiamo della tua presenza assolutamente importante per premiare. Per premiare un artista che interpreta sempre nel miglior modo possibile la tematica che noi ogni anno diamo. Due anni fa è stato sulla pace, l'anno scorso sulla violenza sulle donne, quest'anno sull'ambiente. Quindi l'artista che ha centrato nel miglior modo, secondo i crismi chiaramente definiti artistici, il tema di questa edizione. Quindi Guido Partaleone se può venire con la sua opera. Accogliamo sul palco Guido Partaleone. Scusami Fabrizio, ho inteso male. Lo attendiamo anche per lui la passerella? Certo. Ovviamente. Senza passerella la targa non lo si dà. No, 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 assolutamente. Lo fa la passerella e quindi si posiziona. Eccolo qua, Guido. Guadagna tutta la passerella. Eccolo. Come giustamente meriti. Anche perché noi ti vogliamo vedere qui raggiungere il palco con un grandissimo applauso per questo artista. Guido Portaleone, eccolo qua. Accomodati. Che bellissima opera. Beh, meraviglioso. È bellissima opera. È bravo. Guido è... Tutte meravigliose. Sei bravo. C'è questa parola da dire che è questo. Io darei la parola proprio perché lui spiegasse un attimino cosa ha voluto rappresentare. Intanto chiedo se posso rendermi utile. Ok. Ecco. Magari lo teniamo in alto, magari. Così lo vedono. Allora, questo è un fondale marino dove ci sono alghe, in più buste di plastica, bottiglie di plastica che stanno inquinando sotto il mare. E questo è quello che ho voluto esprimere. No, è molto bello perché... Perché in acrilico... C'è una cromaticità stupenda. Sì. L'idea che si possa perdere per opera dell'uomo ti fa capire sto contrasto. Io lo vedo nel senso quanto sia bello sotto. Sì, sì. E poi si perde sta cosa. E adesso per esempio tutti i coralli stanno sbiadendo tutti nel mare, no? Perdono quella lucentezza. È bellissima. È un'opera stupenda per me. Sì, se posso dire qualcosa su Guido, lui è un artista sorprendente. Perché Guido è un artista essenzialmente eclettico, versatile. L'ho conosciuto come pittore di storia. Perché è uno straordinario pittore del Medioevo. Quindi di un'epoca cavalleresca, di torri, di castelli, giostre, tornei, crociate. E mi ha, ci ha sorpresi negli ultimi anni con questa evoluzione che sostanzialmente non è un'evoluzione. Perché poi ho scoperto che ha tantissimi aspetti che nel corso del tempo si sono affiancati nella sua produzione artistica. E quindi questa esplosione di luce, di luminosità pervasiva nelle ultime opere. Il segno si è molto ammorbidito, ovviamente non trattandosi di battaglie. Non era necessario dipingere lance a guzze o scudi acuminati. E quindi si è ammorbidito per accogliere il colore, che crea profondità. Ed ha rappresentato con profondo sentire e con estrema chiarezza quello che è la tematica dell'ambiente. Vediamo questi fondali marini che sotto la superficie ci rivelano specie coloratissime, policrome. Però vediamo la presenza di questi interventi, diciamo, disturbatori dell'uomo. Sacchetti di plastica, rifiuti di vario genere. E proprio con il suo stile illustrativo, grafico, riesce a farci capire molto chiaramente quello che è il monito. Cioè una necessità proprio di una correzione dei nostri comportamenti in questo senso. Grazie.